Cosa fanno gli operatori di Ambiente Spa, la partecipata del Comune di Pescara? Come è organizzata la raccolta dei rifiuti in base alle zone della città, al tipo di rifiuto e soprattutto come è programmata la pulizia delle strade? Il cittadino deve avere informazioni che riguardano il servizio di Ambiente Spa a 360 gradi e per questo motivo è stata presentata una campagna di comunicazione che mette al centro il cittadino e la trasparenza. Il sindaco di Pescara ha avuto questa idea che è un'idea davvero tutta declinata nella direzione dei cittadini che sono in realtà i veri protagonisti di questa attività che la società Ambiente Spa compie ogni giorno sono i principali destinatari, ovviamente l'obiettivo è sempre quello della qualità della vita dei cittadini e questa campagna prevede la pubblicazione sul nostro sito www.ambientespa.net di circa 450-500 fotografie al mese che ritraggono tutto l'operato dei nostri operatori nelle varie aree diciamo individuate come aree tematiche principali nell'attività proprio di igiene urbana e altri protagonisti oltre ai cittadini sono naturalmente gli operatori stessi e abbiamo organizzato un coordinamento tra il capi turno e il servizio operativo quindi nell'atto in cui l'operazione di pulizia viene effettuata il capo turno fotografa questa attività, queste migliaia di attività e le invia al servizio operativo che poi le pubblica sul nostro sito le aree tematiche individuate sono piazze sagrati, pulizia dei tombini, zone fulcro, ritiro di incombranti e bird control. L'obiettivo è proprio quello di rendere visibile tutto il gran lavoro che giorno e notte gli operatori di Ambientespa, la società Ambientespa e dunque il comune di Pescara pone in essere quindi sul campo nella nostra città. E sempre nell'ottica della trasparenza sul sito di Ambiente è possibile non solo avere info su come per esempio smaltire una vecchia cucina ma altrettanto possibile per qualsiasi necessità non soddisfatta online chiamare il numero verde 800 624622 fermo restando il servizio reclami che funziona meglio di un post su Facebook.